Moto.it, cerca, compra, vendi. L'usato dei tuoi sogni su moto.it Ciao a tutti, questa bellissima V7 Sport telaio rosso, gli appassionati sanno che cosa significhi, è di Giorgio Sarti. Ciao Giorgio. Ciao Nico. Giorgio Sarti, non ha più bisogno di presentazioni, è un amico, un imprenditore, uno scrittore, un giornalista, uno storico, grande archivio, grande conoscenza di tutte le moto. Dal 1910 a oggi, un'infinità di libri scritti, una pazienza infinita, grande competenza, grande passione. Grande passione, naturalmente. Questa V7 Sport, per inquadrarla, ricordiamo qual era, diciamo, il costume, l'abitudine che avevamo in Italia, prima che arrivassero queste tre sportive, appunto, la V7 Sport, la SFC e due anni dopo la Ducati Supersport. Allora, inquadraci brevemente il momento storico, anche questa volta, Giorgio, per capire come, da un momento all'altro, dalla V7, che era una moto pericolazione, gigantesca, spenta, piuttosto mollacciona, ma siamo passati a una meraviglia del genere. Dobbiamo dire che negli anni Sessanta la moto non la voleva più nessuno, perché le utilitarie hanno straccato il mercato, e quindi anche la Topoline era un'utilitaria, ma non se la poteva permettere nessuno. Quando alla fine anni Cinquanta sono usciti alla Seicenta e Cinquecento, la moto ha finito di esistere. Anzi, la rivista che era settimanale è diventata mensile, perché aveva più niente da scrivere. Solo alla fine degli anni Sessanta, con la Honda 750, la Kawasaki Cinquecento che aveva visto, torna l'esplosione, il fascino e la moto come oggetto da sognare. La Guzzi, che è fettita dal 21 nella sua storia, arriva negli anni Sessanta, trotterellando, un po' senza infamie, senza lode. Quando nasce la V7, nasce su richiesta dei corazzieri, perché il comandante dei corazzieri va da Carcano, che è il progettista, e dice noi dobbiamo coprire i cavalli Normandia, perché i cavalli italiani sono piccoli, e i nostri corazzieri hanno bisogno di una moto, sul Falcone sembrano l'orso con il triciclo nel circo, benvenuto a girare la moto grossa. Allora lui riparte dal suo motore, che aveva fatto inizialmente per una Quattro Corcuota. Per un'automobile. Lui aveva la Fiat 500 e continuava a dire, bella macchinetta, ma non va, 18 cavalli, scomoderebbe un bravo tecnico. Ha tirato fuori questo motore, quei cilindri a V, che non sono una novità assoluta, ma nella storia trasversali l'hanno avuto in pochi. Molti si ricordano una tedesca che si chiama Victoria Bergmeister, che aveva esattamente questa configurazione, ma diciamo che quando sono usciti sono stati abbastanza una novità, perché tutti erano abituati al bicilindrico parallelo. Comunque lui fa questo bel motore, lo mette nel baule, perché ha 500 motore dietro, di colpo i cavalli diventano 30, fai 130, e dice che bella, la propongo alla Fiat. Allora la manda a Torino, e perché la sindrome tipica degli ingegneri che dice non è stata fatta qui, non l'hanno neanche guardata. Dopo tre mesi gliel'ha rimandata indietro. E questo è Giulio Cesare Carcano, il padre della Guzzi 8 cilindri, della Galleria del Vento. Stiamo parlando di uno dei più grandi geni. Un genio, uno che è entrato in Guzzi giovanissimo, ha cominciato a curare le moto dei piloti privati, e poi quando la Guzzi ha voluto fare la 500 in graspolvero, l'ha tirato fuori il motore 8 cilindri. Che, vorrei sottolineare, l'ha progettata con regolo calcolatore. E questo cosa significa? Non dire che all'epoca la calcolatrice non c'era il computer, meno che meno, e gli ingegneri all'epoca, come Carcano, graffi come lui, usavano uno strumento come questo, che per noi sembra un righello. Io non lo saprei usare, ma lui comunque ha stato fatto un motore 8 cilindri, che è il motore più sofisticato della storia della moto. E quindi torniamo a quel V7. Quindi, fine delle quattro ruote con la 500, lo monta su un veicolo fatto per gli alpini, il cosiddetto mule meccanico, che è una specie di camion per dimensione a tre ruote, e poi cingoli dietro, vada per tutto, fa le rampe così, se quello della 500 era pompato, questo è spompato, perché deve solo servire per gli alpini. A quel punto ritorna in pista il discorso dei corazzieri e nasce la V7. La V7 nasce nel 700, nasce per essere robustissima, come si diceva all'epoca, tetragona gli sforzi, non doveva rompersi mai, ma non era certo una moto di gran fascino. Però su questa base, quando poi arriva la Honda 750, c'è il boom delle Maxi Moto, perché non sfruttare meglio questo motore? Succede una cosa incredibile, che nel 69, quando sta per partire tutto questo, la Guzzi passa di mano, viene data allo Stato, dalla famiglia Parodi, e alla Seim, invece di fare un monumento a Carcanon, a Randello, nel mezzo ai cortili, dicono, setra, grazie, ci salutiamo qui. Ci rimane di sasso, naturalmente, e la vita della V7 poteva anche spegnersi lì. Invece arriva Tonti, Lino Tonti, che ha avuto un'esperienza enorme a Bianchi, ha fondato la Paton Compattoni, cioè poi è rimasto un anno, nonno che aveva le corse nel sangue, e quando ha visto questo motore ha detto, ma qui possiamo fare di meglio. Allora, gli ha cucito un telaio attillato. Arriviamo appunto alla V7 Sport, che nasce, ti interrompo, in cantina in realtà, nella cantina di Tonzi. Sì, perché gli anni sono sempre quelli, del 69, molte, periodo delle contestazioni, scioperi, tanti scioperi, lui non può entrare in fabbrica, allora lo fa a casa sua. Lo fa a casa sua, un telaio attillatissimo, i tubi sottili, fa il meglio del meglio, lo fa in cromobolibdeno, quindi per tenerlo molto leggero, in pareti sottili. Il primo prototipo è quello che va a Monza, e stabilisce, sfruttando anche l'anello della sopraelevata, molti record mondiali, con piloti come Ibarbilla, Racci, Patrignani, Tenconi, e tanti altri. Poi, Tonti e Todero, si mettono a sviluppare, questa famosa V7 Sport, che viene presentata a Milano, novembre 1971, insieme alla SFC. Grande, grande impressione. Sì, anche perché, colorazione, improbabile, come diremmo oggi, c'è questo verde metallizzato, un po' acido. Perché questo verde metallizzato? L'ha scelto, l'ha scelto tonti così, però, il telaio rosso, che era la cosa più bella, perché faceva un po' racing, voleva essere messo in evidenza, era la cosa più importante, proprio il telaio. costava un milione e 480 mila lire, la prima V7 Sport, 200 mila lire più della Honda 4 750. eppure, già nell'autunno del 1972, perché a febbraio sono iniziate le vendite, già, bisognava fare la cosa per averla, ci volevano tre mesi, eppure uscirono dalla fabbrica, in poco più di due anni, 3.500 pezzi. Cioè, stiamo parlando di una grande produzione. Sì, a quel punto la Guzzi, che era anche una grande industria nazionale, in Uber e sapeva fare. E poi, bisogna dire che, è vero, Honda 750, Cavasaki 500, però questa teneva la strada. Quando poi, se tu che hai partecipato alla comparativa memorabile 72 a Monza, dove si confrontavano la V7, la Ducati 750, Laverda 750, Honda 750, Cavasaki 750, insomma, tutte quelle che si poteva sognare all'epoca, chi ha fatto il giro più veloce, ne hai fatto tu con la V6. Sì, ecco, devo dire che, tu avevi, ero un ragazzino e sognavi. Io ho avuto la fortuna, proprio in quegli anni lì, quando uscivano queste meraviglie, di essere il tester di motociclismo, e quindi di provarle con il primo, di provarle tutte, in quella prova famosa, comparativa, fatta a Monza, e anche a pista Pirelli, di Vizzola Ticino, questa moto lasciò indietro la diretta più, la diretta di seguitrice di più di 4 secondi, ed ovviamente, insomma, andava forte, ma soprattutto era stabilissima, per cui era l'unica con la quale si poteva fare il curvone senza togliere l'acceleratore, senza levare il gas, mentre invece con le giapponesi erano festival, di movimenti e di balli. Poi l'unica che ha fatto i 201, perché all'epoca tutti dichiaravano 200, se andava bene facevano i 190, ma l'unica che ha superato i 201, anche perché il progetto era 200 kg, 200 all'ora, e sono stati rispettati. Certo. Il telario rosso, più che la prima serie, quasi può considerare una pre-serie. Ne hanno fatti soltanto 160 pezzi, perché li hanno montati nel reparto esperienze. E non montati sulle linee, ma nel reparto esperienze. Dieci di questi pezzi, lo dice anche Bruno Scola, che è uno storico, meccanico, tecnico, del reparto esperienze, eccetera, dieci di questi pezzi restavano in fabbrica per i piloti e per lo sviluppo, 150 furono assegnati alla stampa, ai primi clienti, ai piloti per le gare delle derivate di serie. Il telaio è particolare, perché oltre a essere realizzato in crovolio, il deno è di piccolissimo spessore. I tubi sono da 1,5 mm alleggerito, c'è una tecnica un po' da corsa. Eh sì. I tubi di A32, poi diventeranno col telaio nero da 30, però più spessi, e come diceva Tonti, Villeferrat. Eh sì. Il crovolio, il deno fu abbandonato poi a avere l'acciaio. Costava molto meno. Ecco, si distingueva questa primissima serie del telaio rosso anche per il carter della scatola cambio. Sì. C'è il liscio. Siccome tendeva a rompersi, nei modelli successivi sono stati fatti dei rinforzi, delle nervature di rinforzo, che è l'altra grande caratteristica che distingue diciamo i rossi dai neri. Perché, a parte questa serie con il telaio in cromo molibdeno, quando è uscito con il Villeferraccio, sempre per usare tre minuti, e i telaio sono diventati neri. Quindi sono proprio due serie diverse e ovviamente tutti i collezionisti cercano la prima serie. un dettaglio e un aneddoto. Appunto, questa scatola del cambio priva di nervature della primissima pre-serie e veniva dalla V7. Era la V7 Spezia che aveva quattro marce e invece qui le marce erano cinque. Da lì venne qualche problema e addirittura ho letto anche nei tuoi libri che ci fu richiamo e fu modificata questa scatola cambio. Ma anche solo ne sei qualcosa. Ecco, soltanto dopo ho ricollegato le cose e io fui se non l'unico sicuramente uno dei primissimi perché ero lungo la Viglio Grande e uscivo dalla città. Per fortuna non andavo forte ero sui 70 all'ora. Anche se era abitato bisognerebbe andare più piano. E dopo una semicurva che lì c'è ancora per fortuna ero quasi verticale pum di colpo mi si è bloccato la ruota dietro io sono riuscito in qualche modo a rimanere in piedi fino alle tele del pneumatico e vedevo le macchine che venivano dalla parte opposta la moto si spostava comunque a sinistra perché non era ancora perfettamente dritto e me la vedi brutta però poi la cosa l'avevo archiviata così vabbè succede allora qualche problemino c'era sulle moto. Soltanto dopo leggendo i tuoi libri l'ho ricollegata e ho detto ma guarda te la mia rottura ha fatto storia. fatto sta che appunto la scatola cambio o modificata la tua no è ancora la sua la primissima questa è ancora originale c'è da dire che si trova qualche telaio rosso con la scatola si aggiornata si perché tutte le moto che andavano poi in guzzi per qualsiasi ragione d'ufficio vengono modificate subito per sicurezza chiaramente allora la tecnica moto la vedete compatta bassa di baricentro la più bassa la più stretta subito colpito è questa cosa l'interasse è importante era quello della speccia quindi non è che si poteva giocarci tanto poi la forma del motore ti costringe ad avere una moto lunga perché deve esserci spazio per le ginocchia insomma lega un po' e comunque bicilindrico abbiamo detto trasversale di 90 gradi raffreddato in aria corsa corta cilindri cromati al nicasele fu una delle primissime lavorazioni di girardoni sempre a mandello a mandello asti bilancieri due valvole frizione a secco cinque marce carburatori dell'orto da 30 la potenza dichiarata era 72 cavalli a 7000 giri qui forse hanno esagerato un pochino forse hanno esagerato un po' d'altra parte si usava così naturalmente trasversale finale ad accadirò questo a cardano il telaio doppia pull scomponibile per poter lavorare togliere il motore e lavorarci ripetiamo tubi al cromo volibdeno forcelle da 35 steli questo era il diametro più abituale gli ammortizzatori coni al retrotreno questa era una caratteristica manubrio regolabile è un'altra caratteristica particolare di queste per rendere la posizione più adatta puoi ampliare puoi allargarlo puoi abbassarlo questa era una chicca freno a tamburo da 220 a doppia camba ecco questa la metterei l'unica voce nella colonna dei meno certo perché già la Honda nel 69 aveva fatto il disco da lì si capiva che sarebbe stato il futuro quindi fare una sportiva col tamburo forse era accettabile se lo fosse anche special che era da gran turismo ma sulla sportiva com'è questa anzi se è seduto il disco chissà monza cosa vorrebbe questo sicuro vorrebbe rimarare ancora qualche seconda anche se la Guzzi poi arriverà nel 73 arriverà già il kit per cui trovi anche qualche telare rosso già col freno disco perché poi sarebbe uscita la S e poi la S sarebbe arrivata che al disco ce l'hanno velocità massima dichiarata era 206 comunque abbiamo visto che i 200 li superava davvero e peso a secco da circa anche lì 200 200 kg 203 204 kg serbatoio da 19 litri ecco io con questa moto non ho mai corso ma ci ho fatto tanta strada e ho qualche aneddoto con non pochi rischi andai spesso a girare a Monza perché allora le moze te le lasciavano in prova ma dei mesi io ci ho fatto tanta di quella strada e tanta di quella pista un giorno ero a Monza era febbraio c'era il ghiaccio per terra all'esmo c'era un rivolo che attraversava la pista lì c'era proprio ghiaccio vivo arrivavo lì e raddrizzavo a un certo punto mi trovo dietro un'altra moto era il Vittorio Brambilla che avendo l'officina lì di fianco ed essendo lui uno dei padri di questa moto guzzista sfegatato saputo che c'era il Cerighini con la V7 Sport si è fiondato anche lui subito con la sua V7 Sport io con la tuttina di pelle nera c'era stati meno 5 lui con il Belstaff un po' più caldo abbiamo girato un bel po' poi ci siamo fermati io morivo di freddo e lui che gli piaceva fare un po' il gradasso le ha guardate mi ha detto freschinette freschinette l'altra buffa è questa sempre dei Brambilla che in quel 72 corso in coppia fecero sia a Valleluga che 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 mi sa è in coppia senza vincere però perché o cadevano insomma facevano sempre dei casotti e poi no a Valleluga in realtà forse avevano vinto ma si misero a litigare con l'Averda Brettoni ho vinto io no ho vinto tu no c'ho più cronologici guarda qui sono andati dei cronometristi botte da orvi gara annullata veramente però a Monza 500 chilometri del 72 io con la SFC Ibrambilla i due fratelloni con la Vicente Sport la prima mezz'ora sono riuscito a farla nel gruppo di testa c'era Walter Villa con la Travif Trident c'erano loro c'era un altro SFC con Gallina e dentro il curvone era un divertimento non sapevamo ancora cosa stavamo rischiando perché si entrava a manetta pieghe che era veramente vedere quello davanti a te che piegava 200 euro faceva una certa impressione a un giornalista ancora di più che non ero un vero pilota non avevo tutta questa abitudine bene il Tino Brambilla il fratello Maggiore raccontando questa gara l'ho sentito con le mie orecchie dire ero talmente giù nel curvone ma talmente giù che a un certo punto l'occhio mi è scappato sull'Aquila sul serbatoio lo sai aveva tirato dentro le ali della paura insomma questi metici i padri di questa moto sono loro sono i collaudatori Guzzi Piazza Lunga Pasini che si sono particolarmente dedicati Tonti e Todero dal punto di vista della tecnica ma anche Vittorio Brambilla e l'ha provata anche il Wood e l'ha provata anche il Wood ma anche Sarinen anche Sarinen e l'ha provata per conto di 4-4 e dalle foto si vede benissimo che adesso è stato un incontro casuale perché non ero in tutti ha girato con i pantaloni normali un giacchino però è sceso entusiasta invece Sarinen la provò perché l'idea dei patrignani era di taglio Naguzzi per la 200 miglia di Imbola e però dopo che l'ha provata dissero che non si fu non si fu trovato un accordo non c'è stato feeling probabilmente non era proprio tutta la potenza che cercava lui ecco come andava questa moto maneggevole più maneggevole delle concorrenti stabile sicuramente stabile e poi non rigida come la SFG anche con una capacità di assorbire su strada prosperità una moto per due in fondo ci si facevano anche i viaggi con questa moto qua infatti non è restrema non è restrema come la Supersport e la SFC che erano a cupolino e il sellino monoposto questo al passeggero davano ampio spazio la frenata chiaro non era la migliore in assoluto anche se questi tamburi non è che non frenassero cioè ci si fermava comunque aveva questa particolarità del tutto in linea no l'albero motore il cambio il cartano e questo aveva delle reazioni sulla guida sulla prechiudi certi spostamenti sulla traiettoria e anche il cambio è sempre stato piuttosto lento quello della Buzzi però erano tutte caratteristiche che alla fine il motociclista assimilava e per molti era una moto straordinaria come poi sarebbe diventato straordinario il Le Mans cioè ci si abitua a quelle caratteristiche comunque c'è una foto tua mentre la guidi in piedi su una gamba sola come una gamba quella è un po' una stupidata però forse con un'altra moto queste cose no lì c'era per egli aveva la passione di fotografare le moto in tutte le pose possibili ti ricorderai che le metteva sdraiata per terra il dito che puntava al tappo del carter su queste cose qua e allora aveva visto in una vecchia pubblicità della Guzzi forse non pubblicità era una foto d'archivio e c'erano i militari l'esercito che facevano un po' di queste corrobazioni c'erano anche le squadre acrobatiche che andavano in venti sulla moto sola ma lì si vedono probabilmente dei bersaglieri che fanno un giro del piazzale in quella posa lì cioè con la gamba alzata facciamolo anche noi vabbè e mi vergogniamo l'abbiamo fatto però c'è abbiamo detto tutto della V7 Sport sì chiuderei dicendo che anche lei come gli altri italiani aveva dei comandi da ciclomotore che erano veramente una povera cosa perché certo da questo punto di vista le giapponesi non tenevano certo la strada come la guzzona però era un bel vedere e adesso qui aveva la maxi dell'epoca che costava già una bella cifra e con interruttori scadenti come questa eh sì allora facevano un po' piangere facevano un po' piangere nel video successivo noi torneremo sulla V7 Sport per raccontare la sua evoluzione perché poi dal terraio rosso al terraio nero ma poi al modello S al modello S3 una moto che alla fine è arrivata a contare qualcosa come 5.000 rotti esemplari e fu un successo la moto un bel successo se consideriamo che le altre due concorrenti sportive certo molto più estreme parliamo di poche centinaia qui invece parliamo di 5.000 erotti pezzi quindi nel prossimo video per gli abbonati parliamo di serie di evoluzione e di restauro e lo faremo con chi? con i fratelli Guareschi di Parma che hanno una storia che va al di là addirittura della vista e hanno un telaio rosso e hanno naturalmente un telaio rosso del padre che non c'è più la moto però è lì è sempre rimasta lì e ha fatto 220.000 kg altri la tua quante ne ha fatte? no 45 grazie Giorgio Sarti grazie a voi grazie grazie a tutti